Basili Gomme, dal 1969, professionisti nella vendita e assistenza tecnica pneumatici. Ci puoi trovare a Pesaro, con la nostra officina specializzata per auto e moto, e a Monte Labbate, con il punto vendita dedicato agli autocarri e ai veicoli agricoli e industriali. Accanto ai tradizionali servizi di assetto, montaggio ed equilibratura, siamo in grado di offrirti manutenzione dei sistemi di monitoraggio della pressione, interventi di piccola meccanica, sanificazione dell'abitacolo. Basili Gomme, la competenza al tuo servizio.